In provincia per Malé è in ritardo Bengtsson e si inventa un gol straordinario Malé. Un'azione importante, come dicevi bene, cambio gioco e è quello che è successo nella partita in Islanda dove di solito era sottile andarsi a smarcare in quello spazio e invece poi si smarca Malé che con questo call esterno trova il pallo lontano.